Andre, una gara molto complicata già dall'inizio, possiamo dire. Sì, molto complicata perché quando sei nei primi cinque nel campionato ti fanno partire nel primo gruppo e la cosa che dobbiamo sapere è che nel primo gruppo la pista è sporca. Abbiamo fatto primo e secondo con Jeff nel nostro gruppo, però non era veloce perché la pista era molto sporca. Siamo partiti 13, 15, 12, 14 e abbiamo fatto la gara insieme e dopo abbiamo avuto un problema nel traffico. Io sono andato più di davanti e andava bene perché stavo con più di energia, stavo andando più vicino ai altri e penso che c'era il potenziale di passarle, però ho avuto un problema tecnico con l'invertore che è andato molto caldo e ho perso la potenza. Possiamo dire che è stata una gara di temperatura questa più che di energia? Dipende, tante macchine non hanno avuto problemi, non lo so le altre, nel nostro caso è un problema di temperatura. Grazie.